La ciclabile Monte Ciocci Nord è una parte dell'itinerario che connetterà la Giustiniana con San Pietro. Questo tracciato di circa 700 metri è la continuazione della pista esistente nel giardino pubblico di Santa Maria della Pietà, attraverso il giardino Massimo Urbani e corre parallelo a via Eugenio di Mattei. Per realizzare la pista è stato necessario bonificare il terreno inutilizzato tra la ferrovia e la strada, ricavando lo spazio anche per un camminamento pedonale. Sono state inoltre riposizionate due fermate del trasporto pubblico. La pista proseguirà poi su via Barelai e via Giovanni Martinotti. Lungo il percorso saranno installate rastragliere di fronte alla stazione San Filippo Neri, in corrispondenza della rotatoria di via Barelai e all'interno del giardino di Santa Maria della Pietà. Sul versante della sicurezza sul tracciato è stata installata una segnaletica fotoluminescente a punti luminosi che di sera rendono il percorso ben visibile.